Un contributo economico straordinario in favore delle società dilettantistiche giovanili pugliesi per programmare il rilancio dell'attività è la richiesta di Vito Tisci, numero uno della Lega Nazionale Dilettanti in Puglia, al governatore Michele Emiliano, in rappresentanza di 700 società dilettantistiche giovanili a cui fanno capo circa 45.000 tesserati. La Puglia del pallone non è quella dei contratti milionari, ricorda Tisci in una lettera, ma questa passione ora non basta più. Effetti di un'emergenza sanitaria che ha spento i motori di una macchina che prima camminava da sola, interrompendo bruscamente i campionati dall'eccellenza al settore giovanile e scolastico. Da problema sanitario a sociale il passo è stato breve, conclamato dal grido di allarme di Cosimo Sibilia, numero uno della Lega Nazionale Dilettanti. La richiesta di Tisci fa leva soprattutto sul fatto che i costi di gestione dei club sono sulle spalle di piccoli imprenditori locali, gli stessi che oggi hanno dovuto abbassare le saracinesche, con la speranza di uscire dall'emergenza il prima possibile. Persone che destinavano parte di quegli introiti al calcio le definisce Tisci, motivate da una sola parola, la passione. La stessa che per forza di cose adesso verrà meno, alla pari degli incassi al botteghino e del sostegno da parte di alcuni sponsor. Come ripartire? Allora è la domanda che tutti si fanno, un interrogativo accostato ai numeri, come i circa mille impianti di calcio a 11 e calcio a 5 presenti sul territorio regionale, un quarto di quelli censiti. Bisogna trasformare lo sport in risorsa per il territorio, utilizzandolo per agevolare la ripresa economica della nostra terra e l'appello dai vertici della LN di Puglia, per i quali l'erogazione di un contributo straordinario in favore delle società rappresenta il primo passo. L'obiettivo, e la linea ufficiale, è quello di ridurre l'onere che le società sosterranno per partecipare alle attività della stagione sportiva 2020-2021, prevedendo comunque un callo di iscrizioni definito inevitabile. Un grido d'allarme senza precedenti per il rilancio dello sport più praticato su scala regionale. Patrimonio irrinunciabile, spiegatisci che ha bisogno però di aiuti dalla regione per evitare il rischio di un collasso senza precedenti.